L'anno scorso è stato un bruttissimo anno per gli incidenti stradali a Padova e abbiamo avuto 69 morti, che è il numero più alto dal 2012. Sono 69 le persone decedute per incidenti stradali nel 2019 a Padova e provincia. Mai così tante dal 2012, Padova e Verona, le province venete in testa a questa triste classifica che parla di 366 morti e quasi 19.000 feriti in tutto il territorio regionale. Pedoni ciclisti e motociclisti, i soggetti più fragili. Attenzione, abbiamo un'altra categoria che potrebbe diventare presto una categoria di utenti deboli che riguarda la micromobilità, cioè l'uso di monopattini e di bicicletti elettriche che avranno sempre più uno sviluppo nelle nostre città, ma attenzione, se non vengono regolamentate come si deve e le infrastrutture non siano adeguatamente modificate, adeguate a questa nuova mobilità, avremo purtroppo un nuovo tipo di incidentalità nelle nostre città. La principale causa di incidenti è legata alla distrazione, alla guida. Il 36% dei sinistri infatti è riconducibili a disattenzione dei guidatori. La tecnologia può essere d'aiuto, ma il parco macchine resta piuttosto vetusto. L'auto è un grosso investimento, bisogna trovare un modo per aiutare a svecchiare il parco auto e questo porterà a miglioramento sia nella sicurezza sia nell'inquinamento nelle città.